let's go butchers e oggi ho deciso di fare un vlog di fare un qualcosa di diverso dai video che diciamo faccio di solito come sapete ho iniziato con power personal trainer anche nella mente di power e continuerò a farli ma sinceramente continuerò a farli quando veramente penso che serviranno comunque che io li debba fare e voglio fare prima quello che come avete letto dal titolo è un appello a questa community per prima cosa quello che vi voglio dire che vi voglio spiegare è che serve tutto il vostro supporto in quelli che sono i social network su facebook su twitch.tv nelle streaming su youtube nei video su twitter eccetera eccetera molti di voi magari vengono qui sul mio canale per vedersi il video giornaliero e basta non non pensano comunque al fatto che dietro a fare uno youtuber come quello che sto facendo io comunque un giocatore professionista ci sono tante altre cose tante altre incognite che magari possono essere per una persona che ma chi anche possono frustrare alla fine quando i risultati non si vedono e non sto parlando a livello di gioco non sto parlando comunque a livello di risultati di sponsor o di comunque contratti o cose che comunque mi propongono di fare quello di cui vi sto parlando è il fatto che io youtube per me ovviamente più vedo persone che sono interessate ai miei video stessa cosa per twitch eccetera eccetera più sono invogliato a farli più cerco di aumentare la mia bravura la qualità dei miei video eccetera eccetera e quello che vi voglio dire è che proprio ora serve il vostro aiuto servono molte più views su youtube servono molti più viewers su twitch servono molte più persone che interagiscono con i giocatori specialmente quelli che sono diciamo i pilastri portanti della community e come ho detto scusate non mi sono riferito a me non sto parlando di me stesso non sto dicendo dovete andare sul canale di power mettere sempre il like e vedervi il video sto dicendo che questa cosa dovete farla per tutti perché questa cosa almeno per quelli che secondo voi ritenete più importanti e sto parlando solamente di quelli che trattano di esport e competitive per questa cosa perché in italia sta morendo il competitive e se ci tenete a questo mondo a questa a questa cosa le competizioni eccetera eccetera l'unica cosa è cercare di tenerla in vita e vi dire di riuscire a creare qualcosa ma come fare a tenerla in video come posso dirvi se già vi faccio vedere io che sono comunque il giocatore più conosciuto del competitive in italia non riesce ad arrivare nemmeno a 4000 views con un video che non è di quelli che interessano anche alle pub star o a quelli che non si diciamo non si interessano di competitive significa che piano piano questo mondo sta morendo e io ve lo dico faccio questo appello perché mi immagino nelle altre persone quelle che non sono me comunque io i numeri li faccio lo stesso non così tanti ma con cui faccio se io mi immagino altre persone quello che pensano ed è per questo che stiamo vedendo sempre più gente andarsene non solo perché non ci sono non solo perché non ci sono tornei ma anche perché piano piano l'interesse per il competitive sta svanendo e voi che siete magari quelli che supportano che lo seguono siete i primi che dovete dare il calcio in culo ai giocatori perché senza di quello i giocatori non sono nessuno quindi quello che vi voglio dire è cercate di aiutare tutti non solo me non sto parlando solo di me stesso perché una views e un mi piace su youtube fa tanto perché se tutti pensassero e vabbè ma che lo metto a fare che ora lo metto io se tutti pensassero così finiremmo che non avremmo più nessuno a fare video di competitive e sinceramente mi dispiacerebbe molto vedere call of duty competitive morire così qui in italia sto facendo il possibile come sapete io attualmente gioco per un'organizzazione estera nel meno italiana e sia un po brutto da dire forse un pochino potresti dire egoista come concetto potresti dirmi sì giorgio prendi allora perché non te ne torni in italia sei tu il primo che sei andato io me ne sono andato per tanti altri fattori che non vi sto qui a parlare ma in italia il problema principale è che non abbiamo visibilità ma non abbiamo visibilità né a livello comunque di community competitiva né a livello di persone e di numeri basta vedere la spagna nonostante non siano fortissimi gli spagnoli hanno una community enorme che segue partecipa e supporta il competitive quello che manca a noi ed è per questo che dico prendete e ragazzi non mi vengono le parole in italiano perché non parlo tanto italiano parlo molto più inglese che italiano durante la mia giornata e quello che vi voglio dire è prendete andate e spreddate spread allargate come si può dire passa fate passaparola di questo video fatelo vedere alle altre persone fatelo cercate di far capire alle persone che comunque anche magari quelle che si interessano in piccola parte che un piccolo supporto una volta al giorno su ogni vostra persona come posso essere io come può essere golga come può essere rampage quando fai video di competitive e tanti altri giocatori youtuber italiani che fanno streaming e youtuber possono essere possono dare una mano molte volte la gente non ci pensa a questo ma se ok voi dite si deve partire tutto dai giocatori ma molte volte non pensa che dietro comunque a un canale di youtube a un canale streaming ci sono prima di tutto le persone che lo seguono e lo supportano e senza quelle o comunque poche di quelle non si può fare tanto non si può nemmeno dare una prospettiva futura molte persone abbandonano perché sono scoraggiate dagli scarsi risultati come sapete io ho avuto molti alti e bassi nella mia carriera di call of duty e ho fatto su e giù diverse volte a volte sono stato diciamo in salita a volte sono invece andato in discesa e sono cose che cambiano e so che molte persone abbandonano quando succede questo io stesso ormai ho una certa età la skill c'è ancora sì il brain quello lì è invece stato coltivato ed è cresciuto meglio diciamo quegli anni ma ugualmente non posso continuare pure io all'infinito ed è per questo che magari voglio lasciare qualcosa a quelle che sono le nuove leve se mai quitterò da youtube e da twitch ed è per questo che voglio che vogliate tutto il supporto possibile come lo date a me anche agli altri e allo stesso modo veniate ogni volta qui a vedere un video perché la cosa che mi dà fastidio principalmente è che faccio il video per esempio power personal trainer come migliorare la mira è il trigger finger e poi faccio magari un altro video come vlog recap di dicembre in cui spiego cosa è successo eccetera eccetera o nella mente di power eccetera eccetera e le persone sono un quarto di quelle che erano nel video power personal trainer io capisco che ci sono certi titoli certi video che acchiappano di più rispetto agli altri ma è sempre come posso dire un interesse che la gente deve avere nel competitive ogni mio video che ho fatto comunque è quasi sempre stato riguardo il competitive comunque qualcosa di competitivo challenge e di bello non ho fatto come sapete 400 più di fila l'altro giorno e non ne ho caricato nemmeno uno sapete perché perché non mi frega niente di fare il pub stomper al momento se volessi fare il pub stomper ve lo direi mi metterei a farlo e direi sti cazzi tanto sono bravo a fare il pub stomper non mi ci vuole niente per anzi penso che dovrei usare molto meno del tempo che che uso per giocare competitive penso che farei molte più views forse se lo facessi sarebbe una strada molto più facile ma non una strada così bella come il competitive quindi per questo vi dico prendete quello che avete i vostri mezzi sono i social network per farvi sentire perché volendo potreste venire pure sotto casa mia a salutarmi e salire su e non uscire fuori in streaming ma non penso che sia una cosa molto normale penso che mia madre mi ucciderebbe comunque potete tranquillamente usare i mezzi che avete un telefonino potete collegarvi con tutto andare su twitter poi youtube twitch eccetera eccetera e supportare quelli che sono i vari giocatori allo stesso modo e mi dispiace vedere che in questo periodo le LAN vengono annunciate poi annullate perché c'è come qualcosa di strano che le blocca come non si sa per quale motivo in europa viene fatta l'fco viene fatta l'ego viene fatta l'amateur 2 pro vengono organizzate le LAN per la qualificazione della challenger vengono fatte tantissime cose e noi qua non riusciamo nemmeno a organizzare una LAN nonostante ci sono persone che vogliono organizzarla da se stessi con i propri poteri quello che mi chiedo io è chi è che blocca questo perché non vogliono che accada questa cosa e la stessa cosa che mi trovo da dire è perché in tutta Europa in tutta America esistono youtuber grandissimi che si occupano di competitive e noi invece i nostri youtuber hanno perfino paura di fare una partita in arena questo è quello che vi chiedo perché nessuno ha mai fatto un minimo di pubblicità al competitive dei grandi o si è minimamente interessato guardate in Germania quello che è successo guardate Vizca a Barza guardate in Francia tutti gli youtuber che ci sono di quello video di competitive ma in Inghilterra lo stesso Spagna lasciamo perdere guardate Flex eccetera eccetera per non parlare dell'America comunque siamo arrivati alla fine del video l'appello che vi voglio fare è che servono i team per giocare assolutamente competitive servono il numero di persone che vengono a giocare e si buttano a fare i tornei ma come servono loro servono anche le persone che le seguono e li supportano perché è come andare a giocare in una serie di calcio o in una divisione di calcio e non avere qualcuno che riempi gli stati non avere qualcuno che supporta la squadra o comunque che fa girare il mondo del competitive quindi questo sta in mano a voi voi avete gli strumenti per mandarlo avanti io quello che posso fare sono un tramite vi posso far conoscere questo mondo visto dalla prospettiva di un giocatore che non gioca nemmeno qui in Italia attualmente quindi bitches io spero che questo video vi sia piaciuto spero vi possa comunque far capire qualche cosa spero vi possa diciamo come posso dire motivare, incentivare a fare qualcosa di più e speriamo magari in pochi giorni o subito magari con questo video di vedere dei risultati io vi saluto bitches ci becchiamo al prossimo video let's go ciao 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 ciao